buongiorno a tutti sono valerio duchini presidente amministratore delegato di b&b hotels italia catena alberghiera italiana presente nelle città primarie e secondarie con 50 hotel il nostro business model è un business model molto smart adatto sia la clientela business che la clientela legger il ruolo del business sta cambiando e oggi le imprese hanno una forte responsabilità e un forte dovere per promuovere quello che è il progresso economico sociale e ambientale dmv hotel sta difatti ponendo molta attenzione al tema delle isg mettendo a punto azione mirate a favorire il dialogo tra le culture valorizzando le comunità locali con una forte attenzione al tema della sostenibilità per questo abbiamo deciso di affidarci a enegan leader nel settore dell'energia rinnovabile e cento per cento green pienamente in linea con la nostra filosofia only for everyone e con i nostri valori di corporate social e responsibility a Grazie a tutti.